E' stato convocato per venerdì alle 10 in regione a Genova il tavolo con sindacati ed enti locali come provincia di Savona e di comuni di Vado Ligure, Quiliano e Villanova d'Albenga cui parteciperanno i vertici dell'amministrazione regionale. All'ordine del giorno le vertenze aperte sul territorio savonese che riguardano Piaggio Aereo, Tirreno Power e Bombardier. L'incontro sarà propedeutico al vertice che si terrà il prossimo 16 giugno al Mise a Roma in cui si auspica di poter arrivare al rinnovo degli ammortizzatori sociali in scadenza a luglio per Piaggio e allo sblocco dell'accordo di programma sulle aree valbormidesi sottoscritto lo scorso settembre. La situazione è difficile, ha detto l'assessore regionale allo sviluppo economico Edoardo Rixi. Come regione Liguria vogliamo mantenere una compattezza territoriale, non possiamo permetterci che vada perso neppure un posto di lavoro sulla provincia di Savona. Le tre aziende costituiscono la spina dorsale dell'intero tessuto industriale savonese.